Ciao amici, bentornati, sono sempre io, ci ho preso gusto quindi farò una serie di video mi piace tantissimo questa cosa, parlare poi è la mia passione quindi insomma se posso parlare con qualcuno è di assoluta sola nella stanza parlo con una telecamera, ma mi piace un sacco farlo quindi anche oggi una protuzza vi parla di capelli la scorsa volta vi ho parlato di cosa c'è di nociva all'interno di un prodotto se non avete visto il video mi raccomando mettetemi in pausa ricordatevi che io rimango sempre in pausa andatevi a vedere il mio primo video e poi tornate su questo video dei social tech play come possono essere sostituiti i parabeni che sono quegli antibattericidi, fungicidi all'interno del prodotto per i capelli si possono sostituire con un sacco di cose in natura che hanno la stessa funzionalità dell'antibatterico ok, possono essere i più famosi diciamo solo il mirtillo, la vaniglia all'interno di un prodotto bio li possiamo trovare tranquillamente i solfati da cosa possono essere sostituiti in natura? semplicemente dai glucositi uno che lo troverete tantissimo nei prodotti bio è il daily avete proprio la scritta glucosio daily che è un glucosio delicatissimo e viene usato tantissimo per i prodotti per i bambini perché è delicato sulla cute e sul capello e quindi è utilizzato proprio nello specifico anche per i prodotti per i bambini ma soprattutto è biodegradabile e vegetale i siliconi, i siliconi sono quelli che fanno l'effetto wow sul capello possono essere sostituiti da anche qui un'infinità di prodotti che troviamo in natura possono essere l'aloe, possono essere l'olio di mandorle che conoscete più spesso vengono sostituiti all'interno dei prodotti bio in questo modo e rendono davvero l'effetto wow al capello perché vanno a nutrire senza soffocare quindi vanno a creare una patina sul capello ma vanno proprio a nutrire in profondità il capello per non parlare poi delle profumazioni sintetiche in natura abbiamo infinità anche qui di profumi e possono essere estrapolati quindi dei profumi naturali, degli oli essenziali per non parlare delle microplastiche che in un prodotto bio assolutamente non troveremo questa era una piccolissima parentesi quindi un video un po' più piccolo insomma per andare a vedere quali sono gli elementi che dobbiamo cercare in un nostro prodotto per i capelli per cercare di tutelare, insomma di prenderci cura di loro spero di esservi stata di aiuto, ci vediamo al prossimo video mi raccomando vi ricordo sempre di seguirci anche nelle nostre storie di instagram stiamo a ripostruendo casa, mi raccomando, famiglia, io sono per tutti ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao